Salve dice, dacci i retini. Allora, Cristia. Prenditi i retini. Che devi dire? Prenditi i retini. Un bacio. Tieni la tirata così sta a scelta. Quanto lo dico io? No. Così lei sta a scelta. Per il giro. Aspetta, non posso andare a camminare su. No, no, no. Foto. Foto. No, no, no. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Guardalo.